Matteo Gasparato al transport logistiche di Monaco di Baviera, in doppia veste diciamo, presidente del Consorzio Zai, presidente della UIR, Unione Interporti Riuniti, niente meno, una bella famiglia. Dunque Consorzio Zai ha i vertici in Europa, cosa c'è da dire di più di questo interporto che ormai naviga a gonfie vele? A gonfie treni. In realtà non bisogna dormire sugli allori, mi dicono sempre, quindi noi stiamo lavorando per rendere sempre più importanti i traffici ferroviari del quadrante Europa. Oggi firmiamo per esempio, nell'occasione di questa importantissima fiera, un protocollo di intesa che vede coinvolto il quadrante Europa, il porto di Rostock e l'UTLC che è una compagnia di servizi ferroviari che sta operando soprattutto da Kaliningrad e da Rostock verso la Cina. Questo è importante perché già oggi esistono diversi treni da e per Rostock da parte del quadrante Europa. Tramite un progetto di ferry board e di altra ferrovia arriveremo fino in Europa rendendo operativa definitivamente la via della Cina e quindi per noi è un momento molto molto importante perché ci stiamo lavorando da mesi. Quanti treni fate in un anno? Abbiamo pazienza Presidente. Facciamo circa 16.000 treni che è un numero molto importante, insomma se consideriamo che sono circa 50.000 treni di tutti gli interporti in Italia quindi sicuramente è la parte determinante che la fa il quadrante Europa. Questo considerando che è all'incrocio di due corridoi molto importanti e diventa un po' la piattaforma logistica del nord Italia più importante. Interporti. Interporti intanto un numero di interporti in Italia mi sarà dire Presidente se sono troppi, sono pochi o è una cosa giusta. Cosa manca ancora agli interporti italiani? Sono 23, non sono né pochi né tanti, sono quanti sono stati delineati da una legge ancora degli anni 90 che ormai deve essere un po' superata e migliorata e serve l'integrazione definitiva con i porti italiani. Cioè se noi oggi consideriamo che i porti italiani non riescono alle volte, in particolare Genova, Trieste, Livorno, i più importanti, ad essere competitivi con Rotterdam e con Rostock proprio perché hanno magari delle banchine inferiori, hanno dei tempi di stoccaggio e di sdoganamento più lunghi. Allora bisogna veramente essere integrati con gli interporti e le piattaforme retroportuali per fare in modo che siano la piattaforma lunga, nel senso che vengano facilmente lavorate le merci e poi sdoganate in fretta per poter essere lavorate appunto nel retroporto. Presidente, concludiamo con collegamento porto-interporto, collegamento su gomma, collegamento ferroviario perché gli interporti non hanno le banchine sul mare. In realtà c'è da sviluppare tantissimo del cosiddetto ultimo milio ferroviario, ci stiamo lavorando con RFI, diciamo che gli interporti più importanti, più grandi, sono già adeguatamente collegati, c'è un grande progetto da parte di RFI per completare questa operazione. Una volta fatta, superati i coli di bottiglia, i valichi ferroviari, eccetera, saremo pronti per dare un servizio ai nostri porti italiani.